Buongiorno a tutti, questa lezione è importante non tanto come le altre che sono veramente vitali per iniziare a giocare un Go appena appena sensato. Questa lezione comincia ad essere qualcosa di più sofisticato. Allora, quando si muove a Go bisogna cercare di evitare delle forme locali che sono tendenzialmente perdenti, sono tendenzialmente brutte. Non è una questione estetica, è una questione proprio di efficienza, di cui abbiamo già parlato nelle lezioni precedenti. Diamo un'occhiata a quelle nere. Quelle nere sono brutte forme, bad shape in inglese. Vediamo perché. Questa è la più comune. È la più comune perché tutti i principianti all'inizio ne creano acquintali e ne creano acquintali e creano anche una importantissima, un importante e grave lacuna tecnica. Questa si chiama empty triangle, cioè il triangolo vuoto. Il triangolo vuoto è una brutta forma in quanto non usa le tre perine, in questo caso le tre pietre nere, in modo efficiente. Perché non in modo efficiente? Perché notiamo che in questo caso questa perina e questa perina condividono una libertà. Cioè, prendono delle libertà, si rubano delle libertà a vicenda. Quindi questa forma qui ha solo una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette libertà. Se per caso fosse stata invece tutta estesa, come in questo caso qui, non voglio cercare di creare meno confusione possibile, ne avrebbe avuto una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Sembra poca cosa, sette, otto. Invece è fondamentale, perché questa libertà può essere quella che decide un intero game, un intero gioco. Questa è un'altra forma che si crea comunemente a livello di principiante. Quale, cos'è la sua, dove la sua bruttezza? La sua bruttezza sta nel fatto che abbiamo investito quattro pedine che si divorano libertà a vicenda. Questa divora la libertà di questo, questo di questo, questo di questo, un disastro. Queste qua hanno solo una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto libertà, quando naturalmente mettendole ad esempio, per esteso, ne troviamo molte di più. Un'altra forma, una brutta forma, è data da questo. Se notate, ha come sotto insieme già il triangolo vuoto, lo notiamo qua. Qua addirittura è come fondere due triangoli vuoti. Immaginiamoci il disastro. Se poi addirittura, come nell'ultima forma, ne fondiamo uno, due e diciamo tre, poi dipende come li contiamo, insomma, quattro, se ci mettiamo anche questo, è evidente che questa forma qui è disastrosa. Queste sono solo un esempio, naturalmente. È vero che all'inizio i giochi dei principianti non sono decisi dalla forma, però è importante non abituarsi, o comunque non abituarsi a giocare, ecco, questo tipo di forma. In generale possiamo dire questo. Se in una tua partita giochi questo tipo di forma senza motivo oggettivo, senza motivo, ad esempio, un gruppo sta morendo o roba di questo genere qua, tendenzialmente è una mossa errata. Quindi, quando sei obbligato a fare un triangolo vuoto o pensi che sia l'unica possibilità, cerca di pensare un po' meglio e vedere se c'è un'altra mossa possibile e disponibile. Più importante, naturalmente, è imparare, come vediamo qua in bianco, le forme invece buone. Queste forme qua, possiamo dire l'esatto contrario di quelle sopra. Ogni volta che le crei, danno quasi sempre un buon gioco. Questa è molto importante perché ha anche un nome, si chiama Ponnuchi. Ponnuchi è anche un altro proverbio collegato. Si dice che se si riesce a creare un Ponnuchi al centro della scacchiera, questo vale addirittura 30 punti. Non è facile capire questo concetto, che è anche un po' esagerato. Però questa forma qua fa già intuire qual è l'obiettivo principale del Go. Cioè, giocare pedine in modo arioso e non compatto. Quando le pedine sono messe in modo arioso, con delle belle libertà, possono dare grande potenza. Qualcuno potrebbe dire che anche qua queste pedine si divorano libertà a vicenda. Non è vero, perché la mancanza di questa pedina, come nel caso in alto a destra, crea anche qua una significativa differenza. Questa forma qui è un'altra forma. I coreani la chiamano Tutska Shape. Cioè, forma a casa significa la lettera. Perché anche questa forma qua è molto buona. Come notiamo, nessuna di queste forme qui sotto può derivare da una forma cattiva qui sopra. Un'altra forma importante si chiama la faccia del cane. The dog face. La faccia del cane, che notiamo qua, possiamo immaginare che questo sia il naso e i due occhi, è una forma molto buona. Come notiamo, questa forma qua la possiamo trovare, ad esempio, anche qua sotto. Anche qua notiamo che la forma che otteneremo qua sotto, di cui parleremo dopo, contiene già una buona forma. Questa forma qui si chiama, qualcuno la chiama la forma della faccia dell'elefante, perché sembra la proboscide questa. Anche questa è una buona forma. L'altra forma molto bella si chiama Bamboo Shape, la forma del bambù. Si immagina come se queste fossero due colonne di bambù avvicinate. Questa forma è praticamente il contrario, possiamo dire, di quella che vediamo qua in alto a sinistra. Questa invece è una forma molto buona. È un solido modo per connettere le pedine. Ne parleremo in seguito. Questa forma, anche questa, è molto importante, molto usata. Si chiama la forma del tavolo basso, o del tavolo table shape. Questa, come vedete, contiene, come abbiamo detto prima, già la faccia del cane. Possiamo quindi dire che, a partire da posizioni già buone, ogni loro estensione può dare un'ulteriore forma buona. Facciamo un esempio qui sopra. Se aggiungessimo, ad esempio, questa pedina qui, otterremo una buona forma. Così come se l'aggiungessimo in questo punto qui, otterremo ancora una buona forma. Qui sotto un'altra tipologia deriva naturalmente anche da questa. Abbiamo preso un elefante e gli abbiamo aggiunto vicino una pedina. E poi, in un'ultima, la gheta, di cui abbiamo già parlato prima. Qualche inglese la chiama il muffin, perché sembra che sia una torta di muffin, o una ciliegina sulla torta. Anche questa è una buona forma. Inutile dire che anche questa deriva, ad esempio, la forma del cane che abbiamo visto prima, vista in varie direzioni. Quindi, la prima morale della favola è che, se giocate posizioni, forme belle, avrete la possibilità di giocare sempre mosse buone. Se giocate forme errate, come vedete qua sopra, o comunque forme inefficienti, prima o dopo il vostro gioco sarà esso stesso inefficiente. Arrivederci alla prossima lezione.